Io volevo chiedere una cosa rispetto alla politica estera, alle relazioni internazionali del Brasile. Nella legislatura precedente Lula ha dato molta importanza ad allacciare, consolidare, allacciare nuovamente delle relazioni molto importanti sia in Centro America quanto in America Latina ma anche in relazione all'Africa. Quindi ha fatto molti viaggi e pensavo, insomma, utile che lei ci dicesse qualcosa rispetto a questo, insomma. Grazie. Bene, il presidente Lula, apesar delle critiche mordazze da direita, insisti in fare una politica voltata per amicizia tra i paesi più pobres, soprattutto la África. O Brasil oggi può integrare un bloco produttivo, di defesa di diretti e di relazioni internazionali più justi, e il Brasile retomò questo cammino. Parliamo di gruppo diャ stagio, gruppo di gloria, gruppo di 20, gruppo di 20, il presidente ha fatto variabili anche insperimenti della África. Oppure la America Latina fenga occupando la maggior parte del tempo, in realtà, ho pure, per abitura del Brasi, ma anche di altri paesi, è buono tradurare, diciamo... Dice che nonostante le critiche fatte soprattutto dalla destra al tipo di governo del Presidente Lula, Lula ha lavorato molto affinché fossero tessuti dei rapporti fra America Latina e molti paesi, soprattutto dell'Africa o comunque paesi considerati del terzo mondo. Attraverso questo tipo di collegamenti e di ponti creati è stato possibile riprendere un discorso di diritti e di rivendicazioni diciamo in un modo più forte andando avanti assieme. Sto rubando il lavoro al professore. Ma questa particolarità della politica externa brasilella.